un bel giardino guarda come sarà sempre qui grandissimo qua però guarda anche se perciò su un contesto finchia argento 3 grande min che rispetto dove c'è il colosso che figo che figo se qua ci devasta si va qua se per caso provare con la roccia devi prepararti a tirare dietro un botto di pulpi anche in random si si è vero il ping non è così male almeno ci sto come l'Atalus l'importante è che non salga i 200 hai messo caricatore? o ricarica? cazzo vabbè non importa farà i danni flessibili d'altra parte Eisenhower disse che i piani sono inizi il portiere da più spesso piacerebbe sapere cosa ne pensa il colosso del team penso che te lo ruverò quello dell'altra sera mi sa che si ma l'altra sera fai tavamo in spazzia è vero qua è brutto qua c'ho paura anch'io qua è proprio un bello sneaky colosso lì ha spaccato un traccio di fuoco però ma no no raga io lo sento ah lo senti Ale? a me sembra di averlo sentito se non hai lanciato la granata no io non punto la lancia si si Ale lo senti veramente? si eccolo è qua è qua è qua ragazzi merda cosa fa? stia fai tanto? dai 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 no vabbè vai vai col piscino attraverso io ti aiuto voi state un momento raga BASTA CRIMI non ci capisco più un cazzo madonna che iena no ha bisogno di vita ma ha demolito è un problema questo eh no vuole già lord torna indietro torna indietro eh per fammi eh è passato da fuori è successo ti tiro su io tiralo su tiralo su vado vai 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 sono morto sono morto no che non sei morto è finito è finito dai 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 per poi puoi darmi il bonus giudietro 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 nonno si ma ancora più ignoranti del colosso si no no No, 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 no.